E' pronto il rapporto dell'ufficio studi di ConfCommercio per quanto riguarda la situazione economica in Italia. Infatti la crisi sta lasciando il passo alla ripresa e lo scossone d'oltreoceano sta rientrando, il PIL in tutti i paesi europei sta tornando a crescere, ma l'Italia riesce a stare al passo. Bene, i numeri dell'ufficio studi di ConfCommercio lo rivelano. Andiamo a vedere. La crisi è ormai alle corde, l'Europa è pronta per la ripresa, eppure l'Italia frena. Questo almeno è il quadro, stando ai dati Istat ed Eurostat in linea con quelli dell'ufficio studi di ConfCommercio. Guardando i vicini di casa europei, la Germania è passata da un tasso di crescita del PIL del 2,3% del primo trimestre 2010 al 4,8% del primo trimestre 2011. La Spagna, mettendo a paragone gli stessi due trimestri, è passata da un tasso di crescita negativo ad un più 0,8%, mentre la Francia dall'1% è passata al 2,2%. I dati italiani invece lasciano prevedere un andamento del PIL in linea con le previsioni governative. Nel 2011 e nel 2012 la crescita si attesterà mediamente intorno all'1%, quindi ancora una crescita troppo fragile che inevitabilmente allungherà il tempo del ricupero. Una previsione confermata dal rapporto ConfCommercio, ma che secondo il direttore dell'ufficio studi Mariano Bella è molto distante dalla situazione economica degli altri partner europei. Non solo siamo distanti dalla crescita dei nostri partner, ma siamo in forte frenata. Una situazione che potrebbe lasciare spazio anche ad una previsione al ribasso, se si considera che il primo trimestre 2011 ha registrato una flessione rispetto al terzo e quarto trimestre del 2010. Ma la malattia da scarsa crescita italiana secondo la Confederazione Imprenditoriale non è da attribuirsi alla crisi, bensì risale a prima dello scossione economico d'oltreoceano. Arranchiamo da un ventennio e soprattutto negli ultimi dieci anni il nostro Paese non ha sostanzialmente conosciuto una vera ripresa. Nessuna prospettiva di miglioramento economico è in arrivo dunque se non si punta su due fattori. E due sono le precondizioni per rilanciare l'economia. La prima la valorizzazione dell'economia dei servizi riconoscendo il peso crescente del terziario di mercato e in modo particolare del turismo. E il secondo, la seconda, è una maggiore crescita nel mezzogiorno. Confcommercio consegna dunque al turismo il ruolo di volano della ripresa del Paese, eppure se si calcola la nostra capacità di attrarre e si sottrae la capacità di spendere fuori emerge un saldo decrescente. Invece la dotazione del nostro capitale turistico è senz'altro superiore al resto del mondo. Il Sud è il primo che dovrà sviluppare turismo dedicandosi allo sviluppo di una pluralità di servizi che vanno dal commercio al dettaglio ai trasporti fino alla logistica. Ed è proprio dall'area servizi di mercato che arriva però una buona notizia. Secondo lo studio Confcommercio questi sono capaci di cambiare pelle. Dopo la grande recessione del 2010 il valore aggiunto per occupato nel settore è cresciuto. Pollice alzato per l'area accoglienza, per poste e telecomunicazioni, per i trasporti aerei e marittimi e per il settore della ristorazione, sia pure con una crescita più modesta. Commercio al dettaglio, commercio di auto e attività ricreative interpretano poi un ruolo importante per questo momento storico in difesa dell'occupazione con la tenuta complessiva dei livelli di impiego. Ma purtroppo l'allarme scatta se si guarda i protocolli di innovazione, di gestione di impresa e di incentivazione. E anche qui due dati. Tra il 2004 e il 2010 nel centro nord 700.000 occupati in più, nel mezzogiorno 200.000 occupati in meno. Secondo lo studio della Confederazione, la situazione del mezzogiorno è ormai insostenibile. Nei cinque anni 1996-2000 le distanze territoriali tra nord e sud si riducevano, ma dal 2001 hanno riniziato a crescere. Il 35% della popolazione del sud fa meno del 23% del valore aggiunto complessivo. Quasi la metà dei disoccupati sono al sud. Quasi il 60% non studenti sono non occupati. Nentre il 70% dei poveri in senso relativo e quasi il 60% dei poveri in senso assoluto abitano nel meridione. Se si considera che il capitale produttivo e innovativo a loro disposizione, paragonato a quello del nord, è pari ad un terzo, non hanno nessuna possibilità di raggiungere reddito e benessere. Ma se si corresse senza il sud? Quello che possiamo domandarci più seriamente è se negli ultimi vent'anni le migliori regioni dell'Italia sono cresciute molto di più rispetto alle peggiori regioni dell'Italia. Purtroppo la risposta è no. Noi abbiamo fatto il paragone tra Lombardia e Baviera per esempio. La Lombardia rispetto alla Baviera ha mostrato i stessi differenziali negativi di crescita di tutta l'Italia rispetto a tutta la Germania. Infine, quale può essere la ricetta per la ripresa? La nostra ricetta è più produttività nel settore dei servizi con una buona politica a favore dei servizi, più produttività complessiva del Paese. Una riforma fiscale che noi ci auguriamo colpisca due obiettivi, quello della semplificazione e quella della riduzione delle tasse sulle imprese e sul lavoro. Grazie. 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 Grazie.